Terribile essere piccoli, non ti ascolta nessuno. È uno schifo essere vecchio, non ti ascolta nessuno. Io sono un uomo bianco, età dai 18 ai 49 anni. Tutti mi ascoltano nonostante i miei suggerimenti cretini. Non risolverò nulla, restandomene seduta qui. A piangermi addosso, è ora di... Agire! Devo andare a parlare con quella donna che ha creato Malibu Stesi e vedere se riesco a... Uscire dal pensionamento, io mi troverò un lavoro, un vero Malibu e vedrò se Stesi può aiutare a creare i miei giovani... Aiuto! Devi trovarti un lavoro! Sì, andrò lì dove c'è azione! Rispondete, rispondete, mei dei! Sto perdendo il contatto! Ho detto patatine fritte! Ma che diavolo? Noi vendiamo patatine fritte? Sì? Oh, guarda un po' chi si vede! La figlia di Homer Simpson! Puoi aiutarmi a mettermi in contatto con la creatrice di Malibu Stesi? Quella sì che è un'impresa! Stacey Lovell si è completamente isolata! Non appare in pubblico da vent'anni! Sto scrivendo un articolo su di lei per il mio prossimo notiziario Malibu Stesi! Parla dei suoi ultimi recapiti conosciuti! E ora, te ne stampo una copia! La ringrazio! Salve, Smithers! Sei molto bravo nell'accendermi! Ah beh, questo dovresti ignorarlo! No, non può essere! E scusi, signorina Lovell, gradirei parlarle riguardo a Malibu Stesi! Senti, giovincella, hai idea di quanti milioni di pampine hanno tentato di giovarmi? Sono io la prima! Sì! Vorrei farle ascoltare quello che Malibu Stesi sta dicendo ad una generazione di bambine! Pensare troppo fa venire le rughe! Era ora! Sono nove anni che aspetto di riprendermi il mio frisbee! No! Mi chiamo Stesi! Ma tu puoi chiamarmi? Capisco quello che intendi, Bedruzza! È un problema! Ma che ti aspetti che io faccia? Cambiare ciò che dice! La ditta è sua! No, mi hanno escluso nel 1974! Dicevano che il mio modo di pensare non era economicamente produttivo! È terribile! Ebbè, quello è il fatto che mandavo dinaro a Vietticonchi! Ma lei è Malibu Stesi! E finché la bambola porterà il suo nome, la responsabilità è sua! Io sarei mortificata se facessero un prodotto scadente con impresso il nome Simpson! Ma guarda, Bedruzza! All'inizio io avevo molte cose in comune con Stesi! Ma cent'anni del suo stile di vita mi hanno insegnato durissime lezioni! Cinco mariti! Kenny, Johnny, Joy, Tutto Colossus e Stevie Austin! Ma come ha imparato lei dagli errori di Malibu Stesi può farlo chiunque insieme! Potremmo scogitare qualcosa! Coraggio! Ora no! Sono troppo umbriaca! No, non lo è! Ho capito! Tornerò domani! Ho trovato una soluzione! Lei e io faremo una bambola parlante tutta nostra! Avrò la saggezza di Mahatma Gandhi, l'ingegno di Madame Curie, la tenacia di Margaret Thatcher e la forza d'animo di Evita Peron! E per completare il tutto, il bello aspetto realistico di Helena Roosevelt! Ok! Faremo la tua pupazza! Oh! Tessi, ti prego! Io devo riaverti! Vieni con me solo a fare un giro nell'unità di comando mobile! Gio, ma quante volte ti ho detto che è finita, eh? Libere mi dalla tua presa con fu, per favore! Eh, va bene! Sarò costretto a far saltare in aria la tua casa, Pupa! Pupa, giurice assolita!